Non c'era! Per ogni anno c'è una serata, per ogni sera un re. Il re di questo venerdì è Corrado. Per tutte le settimane una grande amica, Heather Parisi. Dieci anni di grande spettacolo. Buon compleanno, canale 5, venerdì alle 20 e 40. L'amicizia continua. Vorrei qualche cosa di nuovo, un gioco e del cioccolato. Tre desideri, ma non è possibile. Con Kinder Sorpresa è possibile. È un'emozione sempre nuova, un gioco e buon cioccolato. Tutto in uno. Wow, Kinder Sorpresa! Oggi i migliori sistemi Hi-Fi hanno nuove tecnologie per l'emissione del suono. Amplificatori potenti, subwoofer per le frequenze più basse, effetto surround. Ma c'è una cosa che nessun sistema Hi-Fi aveva fino ad oggi. Lo schermo. Nuovo sound line ormende. Solo chi ce l'ha sente la differenza. È partito il grande concorso Pizzottella Prealpi. E il premio sono mille premi, mille bellissimi forni a microonde. Con tre prove d'acquisto di Pizzottella o di burro Prealpi, puoi vincere mille forni a microonde. Pizzottella Prealpi, ogni volta un successo. Mastro Lindo è nuovo! Mastro Lindo senza sforzo, tutto nuovo il suo splendore, è splendore! Mastro Lindo spende tanto che non devi risciacquare, non risciacquire! Mastro Lindo è così fresco col profumo di... Mastro Lindo liquido, splendore con meno fatica. E Mastro Lindo è anche super crema! Eh sì, la famiglia, la casa, le responsabilità, proprio un dolce peso. E poi questo tenore di vita ce la farò a sostenerlo da solo. Ora, per proteggere te e la tua famiglia, ci sono le assicurazioni Fideoram, formule nuove nate da un'esperienza finanziaria unica. Il consulente Fideoram è sempre al tuo fianco. Sì, Fideoram ti dà una spalla. Fideoram, la tua guida finanziaria e assicurativa. Chiudi gli occhi. Passaggia. E dimmi a cosa pensi. Ora apri gli occhi. E dimmi a cosa pensi. Dopo, tutta la volontà che ti salta in mente. Pur di ottenere un pulito profondo, a volte rischiamo di rovinare i tessuti. Ma come facevano una volta? La mare andava in campagna quando il sole tramonterà, tramonterà. Chi sa quando, chi sa quando ritornerà. Ho capito, il segreto era il sapone. E oggi lo trovi in scaglie dentro Nuovo Ava. Così pulisce in profondità e... rispetta i tessuti. Nuovo Ava, il sapone di ieri, il pulito di oggi. Candy Acquaviva, con formula inox, oblò più alto, quinta vaschetta e lavaggio assorgente. Nuove Candy Acquaviva. Grazie Candy. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.